Parola al direttore con Vittorio Feltri dalla redazione di Libero, nuovo appuntamento, buongiorno direttore. Buongiorno a tutti voi. Direi se è d'accordo direttore di partire dall'argomento della scuola che è un po' il tema centrale del periodo, tutto è ripartito quindi l'anno scolastico al via ma soprattutto è ripartito dopo il periodo del lockdown e dell'emergenza coronavirus. Quindi la prima domanda è questa, come ci siamo fatti trovare a questo evento? Devo confessare che a me della scuola non importa assolutamente nulla perché sono stato anch'io uno studente ma moltissimi anni fa, oltre mezzo secolo fa, per cui la pratica personalmente con la scuola l'ho chiusa. Ho avuto quattro figli, tutti quanti hanno studiato e l'ultima che ormai è già in menopausa ha due lauree, per cui l'ultimo problema che c'è in casa mia riguarda proprio l'istruzione, chi ha voluto farsela se l'è fatta, tutti quanti lavorano hanno dei buoni posti, per cui io registro che i casini nella scuola ci sono da sempre, anche quando andavo a scuola io, praticamente subito dopo le bombe, dopo la guerra e già c'erano problemi di supplenti, problemi di organizzazione, non è cambiato niente, quando io facevo la prima elementare dovevo andare tutte le mattine in classe con un ciocco di legno per far funzionare la stufa, allora non c'erano i caloriferi, proprio quelle stufe di cotto, ogni ragazzino si portava il suo pezzo di legna e si scaldava l'aula, quindi chi ha vissuto queste cose, assistendo a quello che succede oggi, gli viene da ridere, perché i problemacci ci sono sempre stati, anche molto più gravi di quelli di ora, certo che dopo un casino come quello del Covid non era facile riorganizzare tutto quanto, d'altro neanche l'anno scorso, prima che la scuola si normalizzasse, passarono diversi mesi, certo che ieri vedendo quella fotografia dei bambini, mi pare in Liguria, che invece di avere una seggiola, stavano in ginocchio davanti al banco, questa cosa mi ha un po' dato fastidio, insomma, è vero che non è durata molto questa situazione, poi sono riusciti a risolvere il problema, però l'immagine è brutta, insomma, ti dà l'idea di uno sfascio che forse non è così grave come noi stessi dei giornali l'abbiamo dipinto. Ecco, sentendo la parola, però ovviamente mi vengono in mente due ordini di problemi, uno, mi raggancio a quello che ha detto lei, ci sono sempre stati questi problemi, soprattutto in partenza, però mi verrebbe da dire, insomma, magari piano piano qualcuno dovrebbe anche cercare di risolvere, ma io penso anche alle chiamate dei professori che non arrivano, supplenti. Sì, perché mancano tante cose nella scuola, anche la voglia di lavorare, quindi c'è gente che ha paura del virus e invece che andare a fare il proprio dovere se ne sta a casa, insomma, ma anche il terrore degli altri va compreso, insomma, io non assolvo nessuno ma non accuso nessuno. Non c'era quindi una frecciata alla pubblica amministrazione in questo caso? Direi che la pubblica amministrazione si comporta sempre male in Italia, in quasi tutti i settori, questo lo sappiamo, con la scuola è come sparare sulla croce rossa, perché ci vanno i nostri figli, i nipotini, eccetera, quindi naturalmente siamo molto sensibili, ma da anni si ripetono sempre le stesse cose, quest'anno in modo un po' più esasperato per via del virus che ha messo addosso il terrore a tutti quanti, quindi anche a molti insegnanti, lo trovo del tutto normale. Diciamo insomma che su questo referendum non si capisce granché sì o no, potevamo risparmiarcelo? Sono favorevole all'abolizione del bicameralismo, quello che voleva fare Renzi, chiudere il Senato o trasformarlo in un'assemblea diciamo così laterale che comunque non legifera, in modo che l'approvazione delle leggi viene semplificata e accelerata con una Camera sola, mentre oggi alla Camera poi passa al Senato, il Senato lo rimanda alla Camera, alla Camera poi deve avere… è di una complicatezza mostruosa tutta questa procedura, quindi se forse si trattasse di abolire il Senato io voterei a favore, ma per ridurre il numero dei parlamentari non vado neanche a votare perché sono sicuro che vincono i sì, perché la gente vuole punire la classe politica in qualche modo e questa è l'occasione per farlo, quindi la maggior parte della gente che non capisce niente perché ha altre cose più importanti da fare, sicuramente quando entrano così il popolo quando entra in cabina elettorale dice ma sì aboliamone un po' di questi saltroni, questo è un ragionamento brutto ma lo fanno in molti. Visto che dobbiamo darci del tu come abbiamo stabilito, tu sei nato in vacanza in Sardegna quest'estate? Io non mi muovo da Milano, io non vado in vacanza e quando mi dicono ma perché tu non fai mai le vacanze? Allora rispondo in modo un po' avvolgare il Senato, siccome non faccio un cazzo tutto l'anno è inutile che vada in vacanza. Sei in vacanza tutto l'anno insomma, va bene, però non ti piace il mare a quanto mi pare? No, io non ho mai messo il piede nel mare, mi dicono si è salato. Perché? Non ti piace proprio… Non mi fa schifo il mare, perché il mare bisogna tenere conto di un dettaglio. Quanti miliardi di uomini ci sono sulla terra? Sette, i quali tutti i giorni producono anche degli esclamenti, sette miliardi. Secondo te dove finiscono gli esclamenti? No, no, dove? Sì? Volano? No. Io, io, io però… Attraverso poi tutto il sistema dei fiumi, eccetera, finiscono, finiscono il mare. Quindi il mare pieno di cacca lo lascio a voi. Va bene, io personalmente il mare lo amo, ma facciamo così. Sì, sì, ma io non so niente con chi ama la cacca. Tu sei per la montagna. Tu sei per la montagna. Io sto per salmene a casa mia. Va bene, è casa tua, però insomma, poi torni le tue valli bergamasche, quelle… Beh, quella è la mia terra. Le sposi sempre. Va bene, ok, ha preso una deriva un po' particolare questa parte dell'intervista, ma ci sta, perché poi così scopriamo anche… È scientifico, io non è che… Assolutamente, assolutamente, però in Sardegna c'è chi c'è andato quest'estate, no? Bel Pirla. Briatore e Berlusconi, che insomma… Anche Berlusconi fa delle pirlate qualche volta. Ecco, e vabbè, adesso pare che sia tutto risolto per il Covid, però ecco, c'è stata anche tutta la polemica sui locali, sulla Movida, insomma… Sì, purtroppo era difficile tenerli tutti a bada. Poi anche le disposizioni prudenziali, eccetera, non sempre vengono osservate, quindi non mi stupisco che poi qualcuno si infetti. Mi dispiace, ma d'altronde… Ok. Mi sono dimenticato una cosa sulla scuola, cosa pensi dei banchi monoposto? Perché io vedo che anche questa sede dove sono saluta io alle rotelle sono utili, perché è il tema del momento. Diciamo che in ufficio la rotella ti aiuta se ti devi spostare mezzo metro, eccetera, ma a scuola non c'è motivo di spostarsi, quindi non vedo la necessità delle rotelle. Infatti io darei una sedia a rotelle in omaggio alla Azzolina. Ok, quindi come regalo all'Azzolina, che comunque abbiamo solo rimandato, dai. Senti Vittorio, io come faccio spesso sono andata a spiare il tuo account Twitter, quindi ho letto i tuoi tweet. Hai parlato di De Luca, perché? Io ho simpatia per De Luca, non lo nascondo, però quando ho saputo che per quattro suoi autisti ha trovato un posto migliore, non mi sono scandalizzato, perché è abbastanza normale. Anche in politica si stabiliscono dei rapporti umani, anche perché poi il vantaggio che hanno tratto questi quattro, dalla promozione è minimo, sono a 4.000 euro l'ordi all'anno, quindi non ti cambiano di sicuro la vita. Però mi sono chiesto, ma quattro autisti, cosa se ne faceva De Luca di quattro autisti? Ne basta uno, no? Poi due proprio se vuoi fare una copertura di servizio che dura tutta la giornata, ma quattro, a meno che De Luca dormisse in macchina, da qualcosa non mi sembra. Sì, che dovesse essere in qualche modo scortato, insomma. E poi l'ultima cosa, Di Maio che quest'estate ha fatto parlare di sé per le sue vacanze in barca, insomma, l'anno scorso Salvini al papete, se ti ricordi. Ogni estate, diciamo così, c'è il gossip che riguarda un nostro esponente di governo. Provo che sia tempo perso, discute, cioè è gossip della più bassa spesa. Ma pensavo al mare, visto che abbiamo parlato del mare prima, lui era proprio immerso. Sì, ma che, buono, farselo quello che voglio, ma a me non interessa se vanno al mare. Va bene, Vittorio. E l'ultima cosa, per ritornare un po' al futuro del nostro paese, il ministro Gualtier è tornato a parlare dell'Italia, ha detto si sta riprendendo meglio del previsto. E ha ragione, tutti quanti lo criticano, ma i dati gli danno ragione. Per esempio, la notizia di questa mattina, nella mia città di origine, che è Bergamo, il mercato dell'automobile ha subito un'impennata. Si dice da un paio d'anni che il mercato dell'automobile è in crisi marcia, e invece a Bergamo c'è stata un'esplosione. Siccome Bergamo non è una città avulsa dalla nazione, quindi vuol dire che anche in altre città si registrerà lo stesso fenomeno. Fra l'altro la produzione industriale è aumentata, tantissimo. Noi dal punto di vista del manufatturiero, diciamo, siamo i secondi in Europa. Nella produzione del cemento siamo i secondi in Europa. In tanti settori siamo eccellenze, quindi vuol dire che nonostante il Covid, nonostante effettivamente la chiusura generale che c'è stata, adesso le cose stanno andando bene. Naturalmente chi soffre di più è il terziario, ma il terziario soffre perché molta gente lavora ancora da casa, gli uffici sono vuoti, quindi i bar, i ristoranti, i luoghi anche dove c'è un po' di intrattenimento ne soffrono. Questo è pacifico. Anche i negozi soffrono, perché la gente ha scoperto che si fa prima a comprare via web. Infatti lì c'è stato un aumento del 28%. Quindi che i negozi siano destinati a ridimensionarsi, molti anche a chiudere, è un dato di fatto, che però dura da tempo, come quando sono arrivati i supermercati che i negozi di frutta e verdura, le salumerie, sono scomparsi. È un'evoluzione o un'involuzione, non lo so, però è un mutamento. Direttore, non so, abbiamo lasciato in sospeso qualcosa? Sì, in sospeso abbiamo la nostra relazione platonica che vedo che non ha degli sviluppi così concreti. Allora facciamo una cosa, posso controllare la mia agenda se magari nei prossimi giorni ho? Proviamo a infilare un... Allora, però lunedì devo registrare, martedì ho una riunione, mercoledì ho un'altra riunione, la vita da direttore è difficile. Eh, lo so, lo dica a me. Cosa facciamo? Che è sempre meglio fare il direttore che lavorare. Ti faccio chiamare dalla mia assistente e ti faccio dire quando ho un buco in agenda, va bene? Ecco, sì, un buco disponibile diciamo. Un buco disponibile, vedi, abbiamo fatto malissimo a darci del tu Vittorio. Perché? E perché poi si abbattono tutte quelle barriere che mantengono un po'. Sì, battutacce da caserma. Ovviamente si scherza, il nostro parola al direttore serve anche per far luce sulle principali notizie, grazie quindi a Vittorio Feltri e grazie a Libero per questa collaborazione e alla prossima. A presto. A presto.